Concentrazione Tommy, ci dobbiamo sviluppare, siamo già al terzo episodio e tu non ti sei fatto nemmeno una spada, una cetta e nemmeno un piccone, la cosa più importante di Minecraft. Quindi oggi, a parte fare la casetta e il villaggio, ci facciamo anche gli utensili. Ecco. Ah, ma quanto è bello il nostro isolotto. Siamo in mezzo, proprio in mezzo al mare. Però oggi abbiamo un'altra cosa da fare e non prenderci il sole. Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo fare la nostra casetta e dobbiamo espandere questo isolotto perché guardate, ho notato che qua c'è acqua bassa. Ah, quindi se noi potremmo fare, allora, che qua mettiamo dove c'è l'acqua bassa, mettiamo lì i blocchi. E in questo modo ci possiamo espandere e poi espanderci nel mare. Oh, perché? Perché primo è, ok, espanderci in mezzo al mare. Però me l'è venuta anche un'idea che ho messo nella mia agenda di Minecraft. Volevo fare un ponte che portasse o da qui a quell'isolotto o da qui a terraferma. Però c'è soltanto un problemino. Da qui a lì mi servono troppi blocchi. Invece da qui a lì molti di meno. Quindi, allora, intanto aspetta, vorrei calcolare le distanze. Allora qua, perdiamo. Qua noi perdiamo tipo 6 bolle. Invece, ritorniamo là. Rischio di morirci facendo questa cosa. Dai, perché non nuoti? Già siamo a un minuto di distrazione e io sono ancora qua a cincischiare e a nuotare in mezzo al mare. Quindi, da qui a lì sono molti, molti di più i blocchi. Quindi faremo da qui a lì. Da lì a lì. Faremo tipo un passaggio super bellissimo. Però c'è un problema. Guardate dov'è il nostro sole. Il nostro amatissimo sole. E lo sto tramontando. Quindi io direi di passare una notte a non fare nulla. Ovviamente ve la taglierò la parte della notte. Sennò il video durerebbe troppo. Aspettiamo. Aspettiamo. Ok, ci vediamo. Guys, sta facendo un giorno. Come potete vedere. Guardate, guarda. Che spettacolo. Guardate, guardate che bellino. Che bellini, che bellini. E poi c'era uno zombo che balla. Che ballava. Nell'acqua. Cioè, guardate. Guardate che spettacolo. Vediamo attraverso l'acqua il sole che sorge. Bellissimo. Bellissimo, Minecraft. Ti adoro. Dieci. Dieci. Allora. Comunque, ragazzi. Ho avuto un'ansia pazzesca. Perché mentre che... Stavo regolando il video. Perché avevo messo pausa. Perché non si poteva tutta la notte. Perché è durato un sacco. Mi ha attaccato uno zombo marino. Ecco perché ho tre cuori. Due cuori e mezzo. Scusate. Quindi io ora ho ansia. Ansia. Proprio ansia. Proprio forte. Di uscire dalla mia isoletta. Ehm. Come faccio? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Tanto ho fatto giorno. Quindi. Allora. Potevi fare una corsa veloci. Però là c'è uno scheletro. Ah. L'imbroglione si è messo nell'acqua. Ora lo uccido io? No 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 no. Io ci muoio. Io ci muoio raga. Non posso. Non posso finché. Quello scheletro non si decide di uscire dall'acqua. Io non posso perché lui. Ti ricordo che io quando avevo due cuori in mezzo. Uno scheletro mi ha ucciso. Quindi. Io non posso uscire dalla mia isola. Allora. Potremmo fare soltanto una cosa. Vabbè già mi aveva visto. Potremmo fare il giro. Però ce la rischiamo. Ce la rischiamo? Ce la rischiamo. Dove è andato lo scheletro? Ah. Non vi ho detto una cosa. Vabbè. Sono. La cosa più importante non vi ho detto. Mentre ero off camera. Mi sono sviluppato quando c'era la notte. Guardate. Ecco perché ho finito tutta la mia legna. Allora. Non ho idea di dove sia finito lo scheletro. Però meglio. Meglio così. What? Aspettate ragazzi. Là c'è un bascello. Ok. Benissimo. Però a queste cose ci pensiamo dopo. Più avanti. Perché io ho due cuori in mezzo. Come già sapete. Ognuno me la vorrei rischiare. Quindi prendiamo tutta questa legna bellina bellina. Per farci gli utensili. E espandere l'isola. Perfect. Lo scheletro non so dove. Non voglio sapere dove è andato a finire. Quindi non ne parliamo più dello scheletro. Prendiamo altra legna. Mamma mia. Già penso all'impresa che dovrò fare per ritornare nella mia isola. Ai 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 ai. Ok. Ok. Allora. Potremmo prenderne 20. Ti basteranno. Non ne sono sicuro. Ok. Perfetto. Ok. Mi servirà cibo. Cibo? C'è cibo? Cibo? No ma pecore, maiali, no? Niente. Mucche? Mucche? Ah. Maiale. Perfetto. Vai forza. Sembra se puoi ricordarmi dov'è la mia isola. Quella è l'impresa. Vieni qua maialino. Allora. Se io muoio di danno da caduta. Io non registro più video di minecraft. Ve lo giuro. Guarda. Ve lo giuro ragazzi. Ve lo giuro. Mi servono ancora pecore. Non ho fatto nemmeno il letto. Però ho uno di lana. Ho un altro maialino. Prendiamolo. Ok ragazzi. Un semino che non mi serve a nulla. Magari per la piantagione. Ma comunque. Non mi serve a nulla della piantagione. Cioè. Preferisco il maiale cotto. Quindi. Ritorniamo nella nostra isola. Comunque è semplice ricordarcela. Comunque siamo a. 50 passi. Quindi. Ok. Perfetto. Possiamo farci gli utensili. Quanti squid ci sono? Mamma mia. Ok. Ah. Finalmente. Il nostro eroe. È riuscito a raggiungere l'isola. Quindi. Prendiamo tutto. Tutti i legni che. Ci può servire. 52. Wow. C'ho gli stick. 20. Perfetto. Allora. Facciamoci. È tutto il piccone. Ah. Giusto. Ah. Il piccone. Uno. Poi. Uno. Due. Se non andiamo. E facciamo così. Una bellissima spiada. Poi qua. Dividiamo. Oh. Ma cosa sto facendo? Ah. 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 Abbiamo gli utensili. Finalmente. 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 Ok. Sistemiamoci l'inventare. Perché noi. Non dobbiamo più. Morire. Quindi qua. No. Anzi. Aspetta. 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 Qua ci mettiamo questo. Qua ci mettiamo questo. Poi conserviamo questo. Poi. Ehm. Mettiamo. Questi qua. No. Ok. Perfetto. Ragazzi. Perfetto. Ora. Prendiamo la pietra. In quella caverna. Ok. Ragazzi. Come potete vedere. Ho svuotato. Mezza caverna. Abbiamo 59. Ehm. Ciottoli. Giusto. Ma. Allora. Ehm. Ne ho presso così tanti per fare la fornace. E gli utensi. Faremo la fornace con quello che ci rimane. Uno. Perché mi si è rotto pure. Ehm. Spada. È sempre importante. Perché no. Qua. Ci rimetto le penne. Ehm. Uno. No. Ok. No. Così. Ok. Mamma mia. E la metto qua. Uuuuh. Mamma mia. Che impresa. Ah no. Ah. Aspetta. Aspetta. Ci facciamo anche la nostra carissima fornace. E vai ragazzi. Ve l'avevo detto che oggi ci saremo sviluppati. Quindi mettiamo la nostra prima fornace. La fornace. La prima fornace è la vanilla. Ovviamente non mancava il nostro file. Allora. Direi. Uuuuh. Ci hanno lasciato lo spazio. Quindi mettiamo questo qua. No. Non vorrei sprecare l'ascia per. 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 Togliere una crafting. Quindi facciamo così. E così. Ah. Che bello. Ho sfruttato queste due cosi. Oh mio dio. 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 Oh. Tornare dietro. Allora. Uccido questo zombo marino. E poi metto a cucinare queste tre costolette. Perché sto morendo di fame. Perfetto. Fuori. Allora. Mi viene l'ansia se mi circondano. Immaginate. Ok grazie. Grazie. Sono diventato troppo forte con queste spade. E lo dico. Non sono le spade. Cioè sono le spade. Sono gli utensili. Non sono io che sono migliorato. Quindi mettiamo. Questo. E togliamo queste. Così non le sprechiamo. Ovviamente. Questa è una tecnica da pro. Capito. Così ci facciamo anche. Anche. Un po' di luce. Allora. Dopo che cucinano queste costolette. Vorrei. Di già. Vorrei cucinare il legno. Con legno. Con le assi. Perché potrei fare la carbonella. E credo che la carbonella potrei fare per le torce. Credo. Non mi sbaglio. Dovrebbe essere così. Credo di sì. Allora. Ho finito le cose. Le costolette. Così ce le mangiamo. Perché queste. Cioè. Sono importantissime per la vanilla. Perché danno un sacco. Ovviamente mi hanno riempito. Subito. Quindi. Eh no. Devo fare così. Cuciniamo. No. Non posso. Non ho il legno normale. Mizzica. Non ci possiamo fare una torcia. Vabbè. Vabbè ragazzi. Ci possiamo fermare qui. Ci siamo espansi. Espansi. Espassi. Com'è che si dice? Espanduti. Espansi. Siamo espansi. O espanduti. Nell'isola. Abbiamo fatto anche gli utensili in pietra. Abbiamo fatto le costolette. La cosa più importante della vanilla. Abbiamo produttato anche delle cose. Molto belle. Però non sono riuscito a fare in questo episodio. Mi dispiace. Però non ci sono arrivato. Perché. Già sta durando troppo. Ehm. E quindi. Niente. Ci vediamo. Ehm. Ehm. Ehm.